C'era una volta, nella vasta e selvaggia foresta, un leone di nome Leo. Leo non era un leone ordinario, possedeva la mentalità di un re. La sua presenza maestosa e il suo atteggiamento regale lo distinguevano da tutte le altre creature nel regno animale. A differenza dei leoni comuni, Leo non sopravviveva semplicemente, prosperava. Capiva che il suo ruolo di re significava più che governare sulla terra. Richiedeva saggezza, coraggio e una mentalità unica che lo differenziava dagli altri. Mentre gli altri animali si affrettavano timorosamente alla vista del pericolo, Leo rimaneva in piedi, alto, con gli occhi brillanti di determinazione. Un giorno, un gruppo di iene si avvicinò al territorio di Leo sperando di reclamarlo per sé. Le iene erano conosciute per la loro natura astuta e implacabile, ma Leo rimase imperturbato. Sapeva che essere un re significava non arretrare di fronte all'avversità. Invece di attaccare, Leo si avvicinò alle iene con calma, parlandogli con autorità e spiegando che il suo territorio non era disponibile. Sottolineò l'importanza dell'unità e della cooperazione nel regno animale, offrendo loro l'opportunità di coesistere pacificamente. Le iene rimasero sbalordite dalla fiducia e dalle parole sagge di Leo. Non avevano mai incontrato un leone come lui prima d'ora. Incuriosite dalla sua mentalità, decisero di dare una possibilità alla sua proposta. Nel tempo, Leo e le iene svilupparono un'alleanza inaspettata. Insieme, pattugliavano il territorio proteggendolo dalle minacce esterne. Leo insegnò alle iene i valori della lealtà e della leadership, mentre le iene insegnarono l'importanza dell'adattabilità e del lavoro di squadra. La notizia della straordinaria mentalità di Leo si diffuse in tutto il regno animale. Altri animali rimasero sbalorditi dalla sua capacità di trascendere l'ordinario e abbracciare le qualità di un vero re. Furono ispirati dalla sua determinazione incrollabile e dalla sua capacità di unire diverse specie. Il regno di Leo come re continuò a prosperare. Implementò leggi giuste e fornì orientamento ai suoi sudditi, sempre considerando il loro benessere al di sopra del suo. Sotto il suo governo, il regno divenne un luogo armonioso e prospero, dove gli animali di tutti i ceti coesistevano in pace. Il racconto di Leo, il leone con la mentalità di un re, serve come un rimando senza tempo che la grandezza risiede nella mente di coloro che osano pensare diversamente. Come Leo, tutti noi abbiamo il potere di elevarci al di sopra della mediocrità e abbracciare le nostre qualità uniche. Coltivando una mentalità che trascende l'ordinario, possiamo diventare i re e le regine delle nostre vite, ispirando gli altri lungo il cammino. E così, la leggenda di Leo, il re leone, continua a vivere, ricordandoci che la mentalità di un re non è definita da una corona o da un titolo, ma dalla ferma convinzione in se stessi e dalla capacità di guidare con compassione e coraggio.